Se si prendono in esame le richiedute di questo grande progetto trasfrontaliero, direi che a livello generale ne abbiamo di materiali e di immateriali. Quelle immateriali sono quelle legate alla creazione di una condivisione di percorso fra aree omogenee e trasfrontaliere, che evidenziano anche delle criticità rispetto alla loro connettività, agli aspetti giuridici diversi che complicano la vita e che forse varrebbe la pena che promuovessero delle modifiche, proprio anche a livello sperimentale, a livello normativo, per consentire lo sviluppo veramente di politiche congiunte. Tra le ricadute immateriali c'è sicuramente la coesione di territori per promuovere nuovi progetti futuri. Per quanto riguarda invece gli aspetti più terra-terra, evidentemente sono una buona dose di euro che arrivano su un territorio ancorché molto vasto, che avranno degli effetti specifici su certe aree dove si attuiveranno i progetti pilota, ma che comunque consentiranno di testare delle buone pratiche replicabili su tutta l'area.